buonasera a tutti buonasera benvenuti anche questo lunedì sera sui nostri soliti incontri per chi è nuovo intanto vi saluto questo è in realtà un appuntamento fisso tutti lunedì che fino a poco tempo fa facevamo solo sul nostro gruppo privato il viaggio evolutivo che potete trovare qui sopra taggato è un gruppo diciamo riservato possiamo definirlo così dove lavoriamo su dinamiche particolari quali dinamiche su quali sono i presupposti per far accadere le cose per far accadere gli eventi esistono si può fare assolutamente sì io mi dedico a questo da da molti anni ormai e da poco tempo abbiamo deciso di aprire diciamo così di aprire queste informazioni più in larga scala ecco possiamo dirlo così quindi ufficialmente aperto sulla pagina quindi io do il benvenuto a tutti intanto saluto anche katia in regia che se ciao luca buonasera a tutti ci sei katia ci sono ci sono mi senti non ci sei katia ci sono ci sono ci sono niente non c'è katia spero di essere online per lo meno di confermi che siamo online ah ok accidenti luca mi senti audio ok allora perdonatemi eh vediamo un attimo intanto la mettiamo un attimo anche online vediamo così ci saluta direttamente ok vediamo un po' katia eccoci qua però c'è l'audio bloccato che dobbiamo sbloccare subito come facciamo ecco ah no aspetta allora forse sono io ok prova a parlare eccomi no io ci sono ero io errore tecnico quindi ero io ok ciao katia ecco ciao luca anche vedere in regia ecco katia si occupa si occuperà di leggere le vostre domande che poi vedremo eh mi dirà insomma alla fine io cercherò di rispondere nel miglior modo possibile ok allora katia io ti rimetto in ok mi disattivo ok pronti ecco qua così quindi ok benissimo ok eccoci qui bene bene allora eh di cosa parliamo stasera intanto taggate i vostri amici perché stasera parliamo di una cosa interessante cioè iniziamo a capire mentre l'altra volta abbiamo parlato di eh perché spesso accade ciò che non vogliamo oggi parliamo del perché non accade ciò che vogliamo ci sono diversi step possiamo definirle così eh diversi presupposti che se sono sperimentati eh ci permettono di capire quali sono i codici perché possiamo parlare proprio di questo quali sono i codici che ci portano a manifestare gli eventi in realtà parliamo di modellamento non parliamo di creazione degli eventi perché noi non creiamo nulla da nulla appunto adesso parte il giochino di parole fondamentalmente ehm cosa cosa facciamo diamo forma a qualcosa che già c'è fondamentalmente non facciamo altro che selezionare selezionare gli eventi in funzione di possibilità e probabilità comunque senza entrare in tecnicismi importante ci sono diversi fattori che concorrono nella nella manifestazione di un evento ci sono tutte una serie di dinamiche mentali questo sicuramente eh ma una cosa che deve essere assolutamente capita è che non è il pensiero non è la mente che che dà forma agli eventi che crea gli eventi sono le emozioni poi magari dedicheremo una diretta proprio a questo meccanismo perché è proprio un meccanismo biologico creiamo spazio creiamo tempo attraverso le emozioni per chi non fa parte del gruppo di viaggio evolutivo chiedete la l'ingresso perché potete potete richiedere in qualsiasi momento ci sono ormai come dico tutte le volte 53 credo 52 53 dirette da poter vedere perché ormai è un anno e mezzo che lavoriamo su questo ebbene quali sono le caratteristiche no più che la caratteristica in realtà oggi parliamo del perché spesso non accade ciò che vogliamo abbiamo detto che ciò che porta alla manifestazione di un evento particolare non è il pensiero il pensiero seleziona ecco possiamo dire così sceglie diciamo un evento una realtà piuttosto che un'altra sono le emozioni e più le emozioni sono profonde più queste emozioni profonde sono quelle che ci portano a manifestare ora nei vari step poi vi ripeto faremo magari anche una diretta riguardo questo nei vari step ci sono diversi passaggi da andare a valutare una cosa importante da capire che per creare l'evento di domani dobbiamo vivere già oggi ciò che vogliamo per domani in termini emotivi cioè noi creiamo in realtà uno spazio che potremmo definirlo io lo chiamo spazio affermativo bisogna creare un campo affermativo per lasciare posto all'evento che prenda forma noi semplicemente diamo solo delle istruzioni da questo punto di vista ora se è vero che sono le emozioni a creare a creare gli eventi l'emozione che io creo oggi è l'informazione che io do per fare in modo che si modelli questo evento iniziamo da un presupposto anche la parola voglio perché non accade ciò che voglio molto semplicemente ciò che io vivo oggi lo sto creando per domani è l'informazione che io do è l'ordine possiamo definirlo così l'ordine che io do per fare in modo che si manifesti un evento lavorare con le emozioni non è una cosa semplicissima perché è necessario entrare in profondità se vogliamo modellare gli eventi in modo consapevole partiamo da questa parola voglio intanto che è comunque una parola efficace chiaramente perché è una parola che dimostra che vogliamo raggiungere un risultato ma la parola voglio in sé crea il presupposto del fatto che io questa cosa non ce l'abbia ovviamente quindi cosa fa la parola voglio identifica specificatamente un percorso da dover fare cioè crea quello spazio in cui ciò che io sono ora e ciò che voglio raggiungere ha una strada da fare cioè c'è una distanza quindi c'è una mancanza nel momento in cui nel momento in cui perdonatemi nel momento in cui io lavoro con la parola voglio quindi esprimo un volere sto creando la specifica esperienza della mancanza in questo momento se io vivo l'emozione della mancanza se io vivo la specifica esperienza della mancanza in questo momento ciò che si manifesterà domani dopo domani sarà la sarà la mancanza molto semplicemente cosa che dobbiamo creare dentro di noi dobbiamo creare quello spazio dobbiamo creare appunto quel campo affermativo in cui noi siamo sicuri che quella cosa accada perché se io dico voglio dentro di me si crea anche l'idea possiamo dire così la sensazione della fatica che potrebbe volerci per arrivare a ottenerlo e presuppone anche il fatto che io potrei non ottenerlo perché io sì lo voglio ma il fatto che lo voglio presuppone il fatto che io non ce l'abbia quindi questa questa sensazione di mancanza è quello che poi concorre alla manifestazione di un evento particolare diverso è da questo frangente se utilizzo la parola grazie ora provate a pensare utilizzare la parola voglio l'auto nuova faccio sempre io l'esempio sull'auto ma perché è una cosa semplice voglio l'auto nuova piuttosto che dire grazie per l'auto nuova ecco questo fa una grossa differenza ovviamente va sperimentato questo perché perché solo la sperimentazione crea la convinzione che qualcosa sia vero quindi questo qui è sicuramente un primo fattore quindi una delle dei primi intoppi che si possono avere da questo punto di vista è proprio la richiesta ok quindi l'espressione in realtà la richiesta di un evento particolare non è una domanda è un decreto un'affermazione molto semplicemente io decido che sarà così quindi cosa succede immaginiamoci l'universo dio l'anima insomma usate la parola che preferite immaginiamoci questo cameriere esterno che ci dice semplicemente ok dimmi cosa dobbiamo fare e tu esprimi ma non esprimi a parole esprimi ad emozioni quindi diciamo così questo cameriere non sente le parole che noi diciamo questo cameriere sente le emozioni che proviamo quindi per lui le emozioni che proviamo sono l'informazione che gli diamo quindi lui ci dà quello che ci serve se noi viviamo un'emozione una sensazione di mancanza ovviamente continuerà a proporci la mancanza ecco in questo senso questo l'ho constatato più volte sia su di me personalmente sia nelle sessioni di coaching quindi quando lavoro con le persone addirittura con le organizzazioni con le aziende perché questa questa sensazione questa emozione è una cosa che anche nelle organizzazioni funziona perché dobbiamo immaginarci un gruppo o un'organizzazione ce la dobbiamo immaginare come un essere come un essere vivente come un corpo è formato da cellule un'azienda un'organizzazione composta da diverse parti e si crea una conoscenza una conoscenza una coscienza unitaria che è proprio del gruppo che diventa collettiva quindi quello che si arriva poi a a provare all'interno del gruppo diventa uniforme per tutti quindi ogni componente del gruppo se si allinea diciamo con con l'andamento della dell'azienda in questo caso ecco che si crea una realtà d'azienda una realtà di gruppo quindi già la parola voglio è un grande insegnamento già in questa fase cambiando questa parola che ci porta a vivere delle emozioni o delle sensazioni specifiche già questo vedrete che solo cambiare questa parola ci porterà a cambiare delle cose cioè accadranno delle cose comincia ad arrivare la polverina magica non che la parola voglio non vada bene per carità per iniziare può andare bene perché perlomeno esprime un qualcosa che io voglio ottenere ma è anche vero che quando lavoriamo con queste dinamiche dobbiamo stare molto attenti alle emozioni che proviamo quindi sicuramente il primo diciamo il primo intoppo può essere sulla richiesta che abbiamo ecco ci sono altre fasi però oggi voglio soffermarmi su una cosa specifica su una cosa specifica che ho riscontrato in realtà essere la difficoltà più grande nella manifestazione di un evento o di eventi in particolari teniamo conto che più l'obiettivo che vogliamo raggiungere grande più il percorso da fare sarà sarà articolato specialmente se l'obiettivo è molto diverso o comunque molto più ampio possiamo definirlo così rispetto a ciò che siamo noi ora che siamo oggi perché ricordiamoci una cosa importante non è che si manifesta ciò che vogliamo si manifesta ciò che siamo quindi la realtà che si manifesta l'evento che si manifesta è quello più simile a ciò che siamo in quel dato momento in quel preciso momento e questo fa fa veramente tanto la differenza questo ci fa capire quanto il il lavoro sia davvero interiore profondo da questo punto di vista l'ambiente diventa uno specchio uno specchio del proprio degli abissi definirlo così è uno specchio degli abissi degli abissi nostri della psiche quindi o da psiche dell'anima sono chiamatela come volete però qual è il concetto il paradosso che noi abbiamo in modo molto esplicito vediamo davanti a noi qualcosa che è molto profondo che facciamo fatica a vedere ecco perché spesso facciamo fatica a collegare l'evento che accade con con qualcosa che noi stiamo vivendo perché perché non ci accorgiamo che l'emozione che stiamo vivendo è quella che è stata che è evidenziata dall'evento che accade perché talmente profonda che non la vediamo eppure ce l'abbiamo davanti agli occhi ecco questa secondo me è una grandissima magia veramente un grandissimo è un grandissimo fattore alchemico no perché ci permette proprio di di attuare una trasmutazione una trasformazione ecco quindi questo è sicuramente un primo step da andare a valutare andare a valutare poi ricordiamoci che non possiamo lavorare sulla realtà altrui cioè tutto ciò che è volontà di qualcun altro ecco noi non ci possiamo lavorare possiamo lavorare solo sulla nostra quindi questa è un'altra cosa molto importante diciamo che la cosa su cui mi voglio soffermare di più è quello che ho visto che capita spesso che accade spesso che sembra un paradosso ma in realtà è il problema più grande il problema più grande è dato dalla capacità o tra virgolette incapacità di ricevere cosa intendo ovviamente quando noi lavoriamo su un particolare evento da far accadere o eventi da far accadere quindi anche al plurale accade che spesso le cose non ci arrivano perché ci suonano al campanello e dicono ehi è arrivata l'auto nuova ovviamente no perché perché manca diciamo così un terreno preparato lo stato emotivo che noi utilizziamo per fare la richiesta ecco chiamiamolo così usiamo queste parole semplici per fare la richiesta è il terreno che prepariamo questo famoso spazio cosa succede succede che spesso le cose ci arrivano attraverso le altre persone attraverso diciamo situazioni che abbiamo intorno perché le cose arrivano sempre cioè le cose che vengono diciamo così decretate dal punto di vista emotivo avvengono sempre magari è necessario un processo perché magari non siamo pronti no insomma per tutta una serie di meccanismi ma non è argomento di stasera il punto qual è il punto è che è possibile la maggior parte delle volte capita questo non siamo pronti a ricevere facciamo un esempio anzi più che un esempio voglio prendere un principio un principio che arriva dalla cabala che ci insegna la cabala che è il pane della vergogna che cos'è questo principio questo pane della vergogna il pane della vergogna è un principio che racchiude tutte le emozioni negative legate a qualcosa che ci viene dato e che tra virgolette pensiamo crediamo di non meritare cioè in breve ci viene regalato del pane e noi non lo accettiamo la maggior parte delle volte accade che noi riceviamo da fuori qualcosa che è legato alla scelta che abbiamo preso riguardo un evento che deve accadere o riguardo un obiettivo che vogliamo raggiungere insomma ecco detto in modo semplice qual è il problema? Il problema è che siccome noi abbiamo un'aspettativa riguardo all'evento che deve accadere non ci accorgiamo che non è affar nostro il fatto di scegliere il come accadrà la cosa noi possiamo solo scegliere la meta il come accadrà non è affar nostro quindi cosa succede? Che aspettandoci particolari eventi che dovranno accadere noi rifiutiamo ciò che ci arriva intorno perché non vediamo facciamo un esempio vi racconto una barzelletta forse non mi ricordo se l'ho già detta però c'è un prete che è in un villaggio allora a un certo punto questo villaggio viene inondato e allora lui si mette sul tetto della chiesa quindi insomma questo fiume continua a esondare quindi l'acqua continua a salire e lui inizia a pregare Dio e dice Dio ti prego aiutami 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 a un certo punto arrivano due persone con un canotto e dicono padre venga stiamo salvando tutti venga su con noi e lui no non vi preoccupate ci penserà Dio salvare la mia vita ma no cosa dice padre insomma alla fine loro vanno via e lui rimane lì a un certo punto arriva un motoscafo con altre dieci persone su e dice padre siamo venuti a salvarla stiamo salvando le ultime persone e intanto l'acqua sale e il prete no no ci penserà Dio a salvare la mia vita non vi preoccupate andate e quindi anche loro vanno a un certo punto arriva la navetta della guardia costiera che sta raccogliendo tutti ormai l'acqua è arrivata fino al petto e quindi arrivano dal prete no e il prete gli dice no no non vi preoccupate ci penserà Dio a salvare la mia anima e lui continua a pregare prega 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 insomma alla fine anche questa questa navetta della guardia costiera con dentro un equipaggio è costretta ad andare via perché lui si rifiuta di farsi salvare insomma ovviamente cosa succede alla fine il prete muore annegato e si trova al cospetto di Dio quindi a un certo punto dice Dio perdonami però io ho chiesto il tuo aiuto ho chiesto di salvarmi ma tu non l'hai fatto e allora Dio risponde senti ti ho mandato un canotto un motoscafo e una nave cosa volevi di più? ecco questo sta a indicare a parte la barzelletta in sé ma sta a indicare il fatto che spesso le cose arrivano diverse da come ce le aspettiamo e questo ci porta a rifiutare perché ci porta a rifiutare? perché stimola dentro di noi una serie di emozioni che non ci fanno stare bene ad esempio se mi viene regalato del pane ecco diciamo così pane della vergogna se mi viene regalato del pane qual è l'emozione che io inizio a provare? il fatto di non essere in grado di potermelo comprare da solo il fatto di sentirmi inferiore a chi mi ha dato questo pane regalato quindi avvengono tutta una serie di emozioni che ci impediscono di accogliere e accettare tutti gli eventi che accadono ecco questo meccanismo è una cosa che io ho riscontrato spesso e volentieri sul 90% delle volte riguardo il perché non accade ciò che vogliamo molto semplicemente noi quello spazio affermativo di cui parlavo prima lo chiudiamo cioè non permettiamo che le cose arrivino perché quando arrivano tendiamo a rifiutarle ma molto semplicemente perché? perché noi ci aspettiamo che le cose avvengano in un certo modo in realtà non ci dobbiamo preoccupare di quello quello di cui ci dobbiamo preoccupare è del fatto che abbiamo scelto e selezionato un obiettivo specifico ciò che accadrà sarà probabilmente diverso da quello che ci aspettiamo perché? perché probabilmente è possibile ad esempio se io lavoro sulla creazione di un'azienda è ovvio che prima di arrivare a gestire un'azienda dovrò imparare a diventare leader dovrò imparare la leadership perché dovrò gestire un gruppo di persone oppure dovrò imparare delle dote organizzative dovrò imparare a delegare se io chiedo, usiamo questa parola ci siamo capiti per chiedo che cosa intendo se io chiedo la creazione di un'azienda chiedo questo ovviamente mi mancheranno una serie di competenze mi arriveranno una serie di sostegni definiamoli così perché sono quelli una serie di sostegni che mi serviranno per sviluppare le qualità magari mi arriverà un team di persone da gestire io non sarò ancora capace e comincerò a dire no vabbè questa cosa non la voglio perché non è quello che mi aspetto ma non è compito nostro ecco quello che ci impedisce di più di ogni altra cosa oltre al famoso voglio eccetera quello che ci impedisce di quindi far accadere gli eventi che noi vogliamo è proprio il fatto di non essere in grado o meglio è il fatto di essere incapaci di accettare le cose che avvengono perché ogni cosa che avviene è in funzione diciamo così del risultato dell'obiettivo che io ho scelto in quel frangente dunque il problema più grande non è tanto il chiedere anche se lì uno ci lavora però le emozioni lavorano sempre ciò che noi chiediamo certo ci dobbiamo lavorare su perché se abbiamo capito che sono le emozioni a selezionare l'informazione da dare sicuramente ci dobbiamo lavorare il problema più grosso avviene nella nello sviluppare la capacità di ricevere quindi quel famoso pane della vergogna è una cosa che ci insegna che tutte le emozioni negative che noi abbiamo legate a qualcosa che ci arriva specialmente perché quando avvengono le cose quando arrivano gli eventi sono cose che ci arrivano da fuori sono dei doni quindi il punto è mi sento degno di questo pane che mi è stato regalato perché se io metto da parte l'ego metto da parte tutte le mie frustrazioni legate a questo questo concetto sto spiegando il concetto è proprio il concetto da comprendere adesso facciamo l'esempio del pane della vergogna ma bisogna lavorarci su un pochino bisogna starci su bisogna capirla questa cosa quali sono le emozioni che ho legato a questo pane che mi viene dato ovviamente questo pane che mi viene dato è un sostegno per arrivare poi a ottenere non so la realtà che ho o gli eventi che ho deciso di 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 far arrivare ecco ok bene ecco questo in linea di massima è il grosso lavoro da fare cioè accorgersi che qualcosa sta arrivando e creare un campo affermativo creare il terreno creiamo lo spazio per far sì che le cose possano accadere perché nel momento in cui io mi rifiuto di accettare diciamo qualcosa che arriva perché magari ci crea ripeto delle emozioni negative perché siamo noi a sentirci inadeguati in questo senso chiudiamo questo campo affermativo cioè chiudiamo proprio il terreno impediamo che la cosa accada quindi il lavoro qual è? nell'essere aperti nel ricevere le cose che vengono chieste o le cose che scegliamo bisogna lavorare sull'umiltà bisogna lavorare sull'inadeguatezza cioè la sensazione di inadeguatezza è quello che la fa da padrona in generale questo in generale perché non ci sentiamo all'altezza iniziamo a pensare anche a una cosa se ci dovesse arrivare qualcosa attraverso un dono primo la persona che ci fa il dono chiamiamolo dono ok? usiamo questa parola perché così ci fa capire bene la persona che ci ha fatto il dono è ben responsabile di ciò che sta facendo lo sa che cosa sta facendo quindi io posso solo decidere di accettarlo meno spesso cosa succede? che ci arrivano grossi doni grosse cose e ci mettiamo nella condizione di dire no non posso accettare ok al di fuori delle etichette che possiamo dare iniziamo a comprendere che cosa dentro di noi ci porta a dire non posso accettare perché se una persona mi fa un regalo importante lui sa cosa sta facendo un aiuto ecco andiamo anche al di fuori del discorso dono un aiuto è un dono quindi una persona che si propone di aiutarci noi rifiutiamo quell'aiuto ebbene stiamo rifiutando un pezzettino che concorre alla manifestazione di un evento specifico che noi abbiamo chiesto che magari è un po' distante da noi quindi in questa fase nella fase del ricevere nella fase dell'accoglienza dell'accettazione bisogna sviluppare questa abilità cioè bisogna sviluppare l'umiltà e l'accoglienza di ricevere mettendo da parte il senso di non merito perché quello è il problema se qualcuno mi aiuta come mi sento io mi sento di non essere in grado di poterlo fare da solo mi sento inadeguato magari mi fa sentire peggio di come mi sentivo prima quindi in realtà il problema qual è? il problema che è il nostro ego che ci porta a rifiutare questa cosa se io invece inizio a sentire di meritare ciò che arriva quando qualcuno arriva e mi dà un aiuto dice sì lo accetto volentieri molto volentieri qui abbiamo a che fare con una serie di convinzioni una serie di retaggi che ci sono stati insegnati il fatto di dover fare necessariamente le cose da solo il fatto di dire che ci arrivano i canotti ma noi li rifiutiamo perché ci aspettiamo qualcos'altro ecco questo è uno dei problemi più grossi che portano alla non manifestazione di un evento in realtà non è che non si manifesta io semplicemente non lo accetto cioè non lo accolgo pensate che roba ma questo ve lo dico perché perché ormai sono dieci anni che lavoro su questo aspetto lavoro anche con con persone singole privati con aziende eccetera questa cosa è trasversale cioè è una cosa che colpisce tutti e quindi questo ci richiede un lavoro importante su di noi cioè la capacità di lo sviluppo della capacità di ricevere di accogliere le cose anche se diverse da quelle che noi ci aspettiamo ovviamente alla base di questo che cosa c'è c'è la fiducia quasi cieca del fatto che il meccanismo è questo e per capire questa cosa bisogna sperimentare bisogna non dobbiamo rimanere nella teoria cioè dobbiamo portarci a creare e sperimentare l'evento specifico bene ok oh sono stato preciso benissimo 9.02 io mi fermo qui anche stasera abbiamo fatto insomma la nostra il nostro incontro ho la videocamela storta credo quindi mi sto mi sto spostando un po' così vabbè la prossima volta mettiamo più dritta bene siccome bello bello intriso anche anche questa sera a me piace dare tante informazioni l'unica cosa che dovete fare è sperimentare iniziamo diamo spazio alle domande perché insomma preferisco lavorare sulla domanda in modo da lavorare su un caso specifico e poter dare insomma dei consigli insomma o perlomeno delle strategie più specifiche ok quindi rispondendo alle vostre domande quindi aprirei la linea con la regia quindi con Katia allora c'è una domanda di Carla Bruni che ti chiede ma se poi non succede e restiamo delusi punto di domanda ripetimi scusami ti ho parlato sopra perché ho salutato dimmi pure ma se poi non succede e restiamo delusi ecco il problema è proprio questo la paura della delusione non devi aver paura della delusione anzi devi essere sicura che la cosa accada quello che ci frega è proprio lì cioè la paura di rimanere delusi sul fatto che la cosa non accada e questo ovviamente ti porta a non credere alla cosa allora una cosa intelligente qui da poter fare perché qui è solo un problema di convinzione è solo un problema di credere vi suggerisco un esercizio pensate a almeno 10-20 della vostra vita magari ci vorrà una settimana a farlo questo lavoro almeno 10-20 della vostra vita in cui c'è stato la corrispondenza tra ciò che volevo tra ciò che avevo deciso di volere ecco mettiamola così e ciò che è accaduto quindi ci dobbiamo mettere nella condizione di vedere perché sicuro è accaduto il problema è che non lo vediamo quindi un esercizio utile può essere questo è il fatto di valutare tutte le volte che sono accadute delle cose diciamo in forma di coincidenza perché di solito la sottovalutiamo il problema è che la parola coincidenza ci porta a non guardare più quell'evento allora si può fare una cosa di questo tipo iniziare a valutare nella nostra vita almeno 10-20 di questo tipo in cui c'è stata una correlazione tra una cosa che ho pensato una cosa che ho vissuto emotivamente e una cosa che è accaduta che pareva una coincidenza che sia piccola o grande ad esempio ho pensato un amico e questo amico mi ha mi ha chiamato dopo un mese oppure l'ho incontrato oppure ho pensato un film e questo film l'hanno proiettato dagli a poco una serie di eventi che abbiano questa corrispondenza che cos'è una coincidenza sono due eventi che si assomigliano in qualche modo e sono distanziati da un tot di tempo quindi noi eliminiamo il tempo questi due eventi diventano uno solo ecco per spiegarle in un modo un po' così andiamo a vedere 10-20 che abbiano avuto questo meccanismo vi garantisco che nel momento in cui vedete rimarrete a bocca aperta perché comincerete a vedere che sono molti gli eventi che accadono sia nel piccolo che nel grande bisogna solo avere la capacità di vedere dei fatti che fino a ieri non vi davamo può essere anche utile guardarlo su un'altra persona per poi dopo iniziare con se stessi il problema è proprio lì cioè il credere quindi la domanda che mi devo fare è oltre a questo esercizio è cosa devo fare per far sì di credere che questa cosa sia vera posso garantirvi che è vera perché l'ho sperimentata migliaia di volte anche nell'acquisto della mia casa l'ho sperimentata io ho trovato casa come dicevo io addirittura avevo comprato immobili ancora prima di comprare casa e la casa neanche ce l'avevo per le mani non sapevo neanche tra l'altro l'ho trovata proprio preciso come mi serviva anche economicamente al di fuori del come possiamo dire di ciò che poteva essere creduto al momento cioè l'ho trovata anche a un prezzo favorevole perché io ero convinto di poterla trovare perché sapevo quali erano i meccanismi che funzionavano quindi la paura della delusione è una delle cose che ci frega ecco qui non è un problema di ricevere qui è un problema di chiedere quindi bisogna lavorare su questo aspetto cioè bisogna lavorare sulla certezza che la cosa avvenga qual è l'emozione legata alla certezza qual è quel tipo di certezza che dobbiamo trovare quando andiamo a fare la spesa quando andiamo a fare la spesa abbiamo forse dei dubbi di non trovare da mangiare no dubbio zero e manco ci facciamo una domanda ecco quello è il tipo di certezza che dobbiamo avere è una sorta di fede di fede incrollabile nel fatto che la cosa avvenga certo dobbiamo creare dentro di noi le convinzioni necessarie e questo lo possiamo fare in modo più veloce diciamo così è quello di cercare nella nostra esperienza cose che sono accadute che noi fino ad oggi non abbiamo visto si aprono nuovi orizzonti Carla spero di aver risposto abbastanza bene poi al massimo scriveteci accademia chiocciola evolutiva punto email oppure entrate in viaggio evolutivo perché ci sono comunque ripeto più di 50 dirette da vedere per iniziare a cambiare a trasformarsi bene c'è un'altra domanda vai Matteo Berardi ti chiede in quale momento della giornata dovremmo sviluppare le nostre emozioni legate all'obiettivo non c'è un momento specifico perché è costante ci lavoriamo quando ci accorgiamo di non crederci ci lavoriamo consapevolmente però faccio un esempio con la spesa visto che abbiamo se io ho la convinzione che questa cosa accada non ho più neanche il bisogno di dovermelo più dire cioè viviamo il fatto scontato che la cosa avvenga con gratitudine quindi magari utilizzando la parola ci rieduchiamo emotivamente a vivere l'emozione giusta però se noi siamo a lavoro e sappiamo che la sera dovremo fare la spesa noi non ci preoccupiamo di dire cavoli chissà se troverò da mangiare non ci poniamo proprio il problema magari diciamo ok devo uscire un po' prima per andare a fare la spesa ma non ci poniamo il problema di non trovare da mangiare perché comunque se sarà chiuso un supermercato ne sarà aperto un altro poi ne andrò domani quello è il tipo di emozione da sviluppare legato al manifestazione di un evento quindi non c'è un momento giusto nella giornata perché quando parliamo di emozioni il tempo non c'è perché l'emozione è cristallizzata l'emozione è ferma ha il suo tempo è fuori dal tempo quindi dobbiamo vivere la costanza cioè lo capiamo quando iniziamo a non crearci più il problema non abbiamo più bisogno di pensare positivo perché se io ho bisogno di pensare positivo significa che sto vivendo negativo e quello è il presupposto quindi dobbiamo portarci a vivere positivo ok quindi non c'è un momento della giornata anzi deve essere zero perché se è zero cioè non ci devono essere momenti della giornata significa che noi viviamo quotidianamente costantemente minuto per minuto secondo per secondo ora per ora viviamo quella certezza che la cosa arrivi quindi dobbiamo proprio metterci in quella scia lì ok non ci sono altre domande oh bene ok bene quindi vuol dire che stasera sono stato abbastanza abbastanza esauriente è chiaro bene spero di essere stato chiaro abbastanza anche nelle domande in ogni caso per chi anche vede il video indifferita può scrivere sotto i commenti cercheremo poi di rispondere oppure potete scriverci alla mail accademia chiocciola evolutiva punto email quindi ridico bene quindi io direi se non ci sono altre domande possiamo chiudere la diretta anche di questa sera io vi ringrazio tantissimo per essere stati presenti anche stasera vi ricordo per entrare in viaggio evolutivo dovete mettere la vostra mail la vostra mail o se siete invitati da qualcuno mettete il nome di chi da chi siete stati invitati detto questo io vi rimando a settimana prossima con un'altra con la prossima diretta se avete argomenti specifici ecco un'altra piccola cosa se avete argomenti specifici su quale volete una diretta su quale volete un argomento scrivetecelo via mail che noi saremo ben lieti dico noi perché non ci sono solo io io chiaramente sono portavoce ma c'è uno staff che lavora con me tra cui anche Katia bene allora io direi che possiamo concludere vi saluto e vi ringrazio tantissimo per essere stati presenti anche stasera ci vediamo quindi al lunedì prossimo l'argomento ovviamente verrà lo definiremo nel tra domenica lunedì insomma trovate il post sulla pagina o perché nel gruppo sul gruppo o anche sulle storie perché per chi ha l'amicizia con me sul profilo perché adesso mi sto abituando anche a usare le storie che le uso poco bene allora io vi ringrazio intanto vi auguro una buona serata saluto Katia dalla regia grazie Katia ciao Luca buona serata a tutti quindi vi salutiamo vi ringraziamo ancora per essere stati qui e ci vediamo lunedì prossimo un bacio a tutti e buona serata grazie a tutti